Da diversi anni ormai, con l'esplosione di Twitch e altre piattaforme simili, in molti si sono cimentati a ostare delle live nel tentativo di riuscire a guadagnare da vivere. Ovviamente avviare una carriera da un momento all'altro non è semplice, anzi, dato che richiede impegno, costanza e la giusta strumentazione. Se per le prime due non posso aiutarvi purtroppo, per l'ultima sì. Vi parlerò infatti in questo video dei migliori accessori che dovete assolutamente comprare se desiderate iniziare a streammare. Per prima cosa avrete bisogno di un microfono, che è l'elemento più importante insieme alla webcam se volete cominciare a fare una live. Il microfono che vi consigliamo noi è lo Yeti, che è un microfono decisamente performante pur proponendosi a un prezzo abbastanza accessibile, infatti parliamo circa di 150 euro. Il design dello Yeti è semplice ma accattivante, lavorato con cura e soprattutto costruito con ottimi materiali che restituiscono un fil resistente e che quindi non si romperà dopo un mese. Sulla parte frontale, oltre al logo ben in vista, abbiamo due pulsanti. Il primo consente di mutare la vostra voce nel caso dovesse entrare tipo vostra madre nella stanza, mentre il secondo è in realtà una piccola manopola attraverso la quale regolare il volume. Ai lati abbiamo invece sottili manovelle posizionate appositamente per fissare il microfono e evitare possibili oscillazioni, anche se di questo parleremo in seguito. Il fine sul retro ci sono altre due opzioni, una per regolare il gain e l'altra per lo switch delle varie modalità di cattura audio. Se avete un budget elevato potete però decidere di aggiungere due accessori al vostro microfono, un pop filter da applicarvici sopra, che in realtà potrete trovare a meno di 10 euro, quindi non è una spesa chissà che eccessiva, e un'asta per supportare il microfono e appenderlo in giro, soprattutto utile se avete poco spazio, mentre questa va sui circa 20 euro. Passiamo poi alla webcam, che è un altro accessorio decisamente fondamentale se volete metterci la faccia durante le live. Quella che vi consiglio io è la C922 di Logitech, che è molto performante e dal budget contenuto, dato che costa circa 90 euro. Se invece vi potete permettere di spendere di più, la migliore in assoluto è la Logitech Streamcam, studiata appositamente per le live e capace di registrare video in 1080p a 60 fps, quindi veramente ottimo. Nonostante però una buona webcam sia un'ottima base per apparire bene in video, questa non basterà, a meno che non streamiate di fronte a una finestra in pieno giorno e in condizioni climatiche favorevoli. In qualsiasi altra situazione avrete bisogno di un set di luci. Queste possono variare da un semplice ring light che trovate ovunque anche a 10 euro, a lampade montate su treppiedi, filtri coloranti, insomma cose più serie, più professionali. Ovviamente sta a voi decidere che tipo di spesa fare in base alle vostre esigenze, in base a quanto volete rendere il vostro setup professionale, ma in ogni caso anche con delle luci fatte bene ve la cavate sui 50 euro. Gli ultimi due accessori dipendono interamente invece dal tipo di live che volete fare. Se intendete portare i gameplay e soprattutto se giocate da console, un acquisto obbligatorio se volete streammare è uno strumento per i game capture. I due migliori in commercio al momento sono la Vermedia Life Gamer Mini, adatta a chi si accontenta della risoluzione full HD, che comunque non è per niente male e che costa sui 100 euro, e l'elgato HD60S+, che costa circa 150 euro ma vi permetterà di streammare in 4K. Poi un'ultima cosa è un green screen, che non è assolutamente obbligatorio, soprattutto se la vostro sfondo è fatto bene, però se intendete streammare in uno schermo grande solo la vostra faccia, quindi senza streammare un videogioco, e se il vostro schermo dietro non è proprio bellissimo, allora vi converrà prenderlo. Ce ne sono in commercio a centinaia di diverse dimensioni materiali, ma insomma ve la potete cavare anche con meno di 50 euro. Riassumendo, le cose di cui avete assolutamente bisogno, se volete iniziare a streammare, sono un microfono e una webcam di buona qualità. Se però volete fare il salto di qualità, vi consiglio di comprare delle luci o perlomeno un ring light, che appunto come dicevo ce ne sono di svariati tipi e può costare anche molto poco. Infine, se volete avere un setup davvero professionale per partire con il botto, potreste considerare l'acquisto di un pop filter, che come abbiamo visto costa 10 euro circa, e di un supporto per il microfono e inoltre di un green screen. Questo solo se veramente prestate attenzione alla vostra faccia, insomma se è in grande schermo e se il vostro suono non è così bello. Voi fateci sapere nei commenti qual è l'accessorio a cui non potete fare a meno, e iscrivetevi ovviamente al canale per trovare altri video simili con altri consigli di altri acquisti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!